musica 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 questo è lava quadrata ma non è tanto quello il problema lo catturo lo catturo magari cambio e poi lo catturo musica 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 per l'amor di gesù bambino tanto o salta o para oh vabbè ho vinto lo stesso musica 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 io e havor stavamo pensando di fare una routine qua nel gioco dove tu puoi ottenere uno spinda con i pallini che formavano un pene tuttavia l'area dei pallini può essere modificata fino a un certo punto e questo non ci poteva far formare il pene molto triste come cosa musica 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 ma mi piace pokemon spada escuro avete capito musica 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 prendi padre pio prendi padre pio vai so che stai per prendere padre pio l'altro vaga per la stanza nel frattempo sta cercando la coppia di scudo per spaccarsela in testa don't worry l'altro anni fa quando lavorai alla lavorazione di quando lavorai alla lavorazione di pokemon dark rising luck strumenti per mettergli sprite non esistevano ancora ora tu immagina sei in guerra e un tuo amico ti prometti in figlia sua sposa che cazzo ho detto beh del resto è una grandissima ti promette in sposa sua figlia ti promette in sposa sua figlia e praticamente praticamente ti arriva questa qui che è una contadina alta due metri spessa quanto il padre e tu cosa fai cioè praticamente arriva davanti bron versione donna guarda io non vale men che nuocere tutto tentare vale men che nuocere no che cosa ho detto che lingua poi no io non perdo neanche tempo me ne vado e basta non sta funzionando molto bene mi sembra un po spedito ciao pacco ah credo anch'io li prenderò alla fine dai pacco torna no dai no dai solo se rendiamo nulla questa battaglia fatti dalla regia ti dicono di software esempio va bene dai porco di andando avanti affronterei avversari ancora più fermati non me ne frega niente io sono qua per le tue ascelle ah ma perché ti piace ziar che perché proprio perché è uguale a sepio sepio in realtà non piace come personaggio mi piace un sacco fire emblem 7 ma sepio proprio mi fa cagare fire emblem 7 si piace fire emblem 7 gli piace fire emblem 7 ma fire emblem 7 final fantasy si si vai ff si manca c'è una lettera bene poi clip ma ma why ma è pazzo ma why era la cosa più stupida da fare why no no non ho capito che bello car tox ariod sono io qua possiamo vedere benissimo magica rapi insieme a salvatore il pescatore che bello è magica io non mi tiro indietro Fai a rapporto mio signore no ti prego per i cibi diamante e perla hanno detto questi qua sono gli sprite fai un modello 3d basunti su questi sei riuscito quello proprio opproprio eh in realtà gli hanno detto questi sono gli sprite adesso verso Milafanta nooo non ho capito adesso hai toccato il fondo del baglio perché io invece non ho ancora un cazzo ma piacere eh sono solo un povero coniglio e prima che fa le battute sui conigli si prende un pugno nella faccia cioè nella faccia nella si perché ti entro dentro la faccia è ancora più brutta così è un sacco più brutta il treno suburbano linea 5 23 0 2 proveniente da Treviglio e diretto a Varese delle ore 17 e 50 oggi arriverà con un ritardo previsto di 45 minuti ci scusiamo per il disagio in tutti i sensi molto semplice poi otalon non ah no che sto per il ninja lo cap lo cap Grazie.